schifani in visita al centro di ricerca di ingegneria aerospaziale marta eccellenza assoluta modello da perseguire punto l'attività di ricerca che viene portata avanti al centro marta all'interno del nuovo polo didattico e scientifico della facoltà di ingegneria e architettura della core di enna con i suoi due simulatori di volo rappresenta un'eccellenza di livello europeo è questo il modello che la sicilia deve perseguire grazie all'impegno e alla lungimiranza delle sue università la struttura di ricerca che afferisce al corso di laurea in ingegneria aerospaziale dell'ateneo ennese è il simbolo di come la nostra regione possa dare un contributo fondamentale alla crescita della comunità scientifica produttiva e della collettività a crescere la capacità di attrarre i migliori studenti e formare laureati con professionalità d'avanguardia il mio governo continuerà a supportare gli atenei e le imprese per favorire l'innovazione e la ricerca per fare sempre più della sicilia un territorio in grado di produrre attività di alto profilo riconosciute a livello internazionale lo ha detto il presidente della regione siciliana renato schifani oggi a seguito della visita al centro marta l'edificio destinato alle attività didattiche e di ricerca del corso di laurea di ingegneria aerospaziale che afferisce al dipartimento di ingegneria e architettura nel polo scientifico e tecnologico di santa panasia dell'università core il centro marta all'attivo collaborazioni con enac e altre agenzie di volo il governatore schifani accompagnato dal presidente della core cataldo salerno dal rettore francesco tomasello dall'ombudsman dell'ateneo salvatore cardinale dal responsabile del centro marta andrea alaimo e dal direttore del dipartimento di ingegneria e architettura francesco castelli ha visitato il simulatore della cabina di pilotaggio di un aereo uno dei due l'altro simula la cabina di pilotaggio di un elicottero presenti all'interno della struttura entrambi vengono utilizzati per la ricerca sul fattore umano nella gestione di una missione di volo sia in condizioni normali che di emergenza per studiare come i carichi di lavoro debbano restare entro limiti oltre i quali si incorre nell'errore umano le due apparecchiature vengono utilizzate per attività di ricerca ma potrebbero esserlo anche per l'addestramento dei piloti la core è l'unica università in europa dotata di un simulatore di questa tipologia e tra le poche del continente a effettuare questo tipo di ricerca lavoriamo insieme governo ed enti gestori per valorizzare le aree protette è l'inizio di un percorso virtuoso sono certa che riusciremo a superare alcune criticità e utilizzando al meglio i fondi extra regionali renderemo riserve e aree protette più accessibili e fruibili puntiamo inoltre a riqualificare i nostri immobili come punti di ristoro e di incontro lo ha detto l'assessore regionale al territorio e all'ambiente giusi savarino incontrando questa mattina i rappresentanti degli enti gestori delle riserve naturali delle associazioni ambientaliste e dell'università di catania area della terza missione per avviare un percorso condiviso di programmazione pianificazione e gestione del sistema regionale delle aree naturali protette in particolare sono stati affrontati i temi della fruizione di un nuovo sistema di governance e di un maggiore coinvolgimento degli enti locali finanziari del comando provinciale della guardia di finanza di calta nissetta hanno sequestrato 40 chili di hashish e arrestato una persona nel corso dell'operazione takeaway finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio nissene e nei limitrofi comuni dell'agrigentino i baschi verdi del gruppo di calta nissetta attraverso preliminari attività di controllo e analisi del territorio hanno individuato e bloccato in flagranza di reato un cittadino originario della provincia di agrigento che occultava 200 panetti di hashish del peso di 100 grammi cada uno a bordo della propria autovettura la sostanza è stata trovata dai finanzieri occultata in involucri confezionati al fine di eludere eventuali controlli o la segnalazione da parte di unità cinofile l'intera operazione ha consentito il sequestro di complessivi 40 chili di hashish destinati alla vendita nelle province di calta nissetta ed agrigento con un potenziale profitto per le locali consorterie criminali di circa 400 mila euro ieri i finanzieri del comando provinciale di ragusa hanno dato esecuzione nell'ambito dell'operazione home delivery supportati da un mezzo aereo del reparto operativo aeronavale di palermo a un ordinanza del giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di ragusa con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere di otto persone ritenute responsabili del reato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti i militari hanno effettuato 10 perquisizioni locali nei comuni di vittoria e comiso presso le abitazioni degli indagati e ogni altro luogo nella loro disponibilità con il supporto di unità cinofile antidroga e antivaluta del gruppo della guardia di finanza di siracusa nel corso delle quali sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 6,15 g di cocaina 9 grammi di marijuana 1400 euro in contanti 10 cellulari nonché materiale vario utilizzato per il taglio e il confezionamento dello stupefacente nel dettaglio le indagini hanno consentito di individuare una piazza di spaccio dedita al traffico e alla consegna a domicilio di sostanze stupefacenti nel vittoriese gestita da soggetti italiani e da un extra comunitario in concorso tra loro le attività investigative hanno permesso di appurare come l'immobile fosse frequentato da diverse decine di avventori al giorno con flussi che hanno raggiunto un centinaio di persone nei fine settimana mercoledì 23 ottobre al salone delle bandiere del comune di messina stracolmo di pubblico si è proceduta la premiazione della diciassettesima edizione del premio nazionale di poesia sotto reggita dell'amore dedicato a melina feno crisapulli madre esemplare ed amica sincera la manifestazione è stata organizzata curata e condotta dalla presidente dell'associazione culturale studio d'arte l'etual dottoressa annunziatina titti crisapulli la commissione giudicatrice era formata da personalità del mondo della cultura e preseduta dalla professoressa graziella lovano al premio allietato dall'esibizione del cantante chitarista mimbo ambriano hanno aderito poeti da tutte le regioni d'italia e tutte le poesie come per le edizioni precedenti sono state raccolte in un'antologia che sarà inviata alle più importanti biblioteche d'italia questa è la diciassettesima edizione segno da logiche di chirurgianità ottenuto soprattutto attraverso il meglio continuo metodico e profondo dottoressa titti crisapulli alla quale è una poesia molto amara chissà forse reannunciata prima classificata impitosa e nel contempo delicata potrebbe sembrare un ossimoro la poesia prende avvio dall'episodio di cronaca con lo sguardo di bimba il sorriso candido crea di nell'area la libertà mi urli contro eppure dici di amarmi mi rascini via in un freddo pomeriggio di novembre ultimo novembre dedicata a giulia cenchettine il 13 novembre non è una giornata qualsiasi è la giornata mondiale della gentilezza questa data non è stata scelta a caso ma coincide con la giornata d'apertura della conferenza del world kindness movement a tokyo nel 1997 che si è chiusa con la firma della dichiarazione della gentilezza l'obiettivo di questa giornata è di guardare oltre noi stessi oltre i confini dei diversi paesi oltre le nostre culture etnie e religioni le previsioni meteo per mercoledì 30 ottobre mercoledì atmosfera stabile grazie all'anticiclone giornata con generali condizioni di bel tempo il cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio clima piuttosto piacevole di giorno con temperature massime fino a 26 gradi valori notturni leggero calo mari martirreno calmo marionio mosso stretto di sicilia da mosso a poco mosso